L'Inter oggi non ha certo onorato il primo posto in classifica. Ha giocato a Catanzaro una partita scialba e con poco mordente. Se dal Catanzaro un pareggio poteva essere accettato, qui vediamo Palanca sprecare di destro lui che è mancino una favorevole occasione, lo stesso non può dirsi dell'Inter. La squadra è ben preparata, ha buone individualità, ma non riesce ad esprimersi con quella continuità che la confermerebbe con pagine di rango. Le due formazioni si sono presentate in campo con molte novità. Bersellini ha preferito con la maglia numero 9 Ambu al solito Altobelli, mentre Mazzone ha fatto esordire come libero in Serie A Marchetti lasciando fuori squadra Chimenti. L'azione è più propizia per l'Inter al quarto d'ora della ripresa. Sul centro di Muraro Beccalossi lascia per Oriali che tarda ad aggiustarsi il tiro. Per il resto ordinaria amministrazione, il gioco è rimasto soffocato a centrocampo. 1-0-0 su cui c'è ben poco da dire.